Grazie a tutti. Sensibilità! Ma intanto lo sappiamo che è così. L'abbiamo già deciso, no? No, non l'abbiamo deciso. Tu l'hai deciso. Margherita, fai qualcosa di nuovo, di diverso. Dai, rompi almeno un tuo schema. Uno su due scelte. Tu non dire stop! Non ti ricordo una battuta. Una sola battuta! Sei stancato? Eh, sì. Capisco che sta attraversando un periodo complicato. Anzi, se ne ha bisogno non si deve preoccupare. L'azienda le può dare ancora qualche mese di aspettativa. Non serve perché ho deciso. Sono un cambio di idea. Mamma. Dormi. C'è un'altra. Dormi. C'è un'altra. C'è un'altra. Grazie a tutti